Rosina ha sofferto come gli altri, si è dato da fare secondo quelle che sono le proprie caratteristiche, soprattutto i propri limiti fisici in questo momento, che sono i limiti di tutti. Quindi è stato in linea un pochino con l'atteggiamento della squadra, ha alternato buone cose, magari ha qualche errore. Rosina non è che lo vogliamo giudicare, se oggi avesse fatto tre gol, non è che saremmo stati convinti di avere Messi, come non siamo preoccupati perché magari ha avuto qualche difficoltà. Siamo semplicemente in linea con quelle che sono le aspettative, sia per lui che per gli altri.